Ecco qua, questa è la Laurentina ragazzi, buongiorno, io l'ho presa dal raccordo anulare di Roma, ecco qua, tutta rifatta, guardrail rimessi, tutta ristrutturata fino all'altezza dei castelli romani, l'incrocio dei castelli romani per andare a Pomezia, questa era distrutta ragazzi, questa era la strada dei cartelli e degli striscioni che erano morte tantissime persone per le condizioni dell'asfalto e delle zone circostanti, ecco qua, tutta rimessa a nuovo, asfalto rifatto, nuovo di zecca, ecco qua, tutta la striscia, tutta la segnaletica, tutta rimessa a posto, quella è la corsia preferenziale per gli autobus, ok? Ecco qua ragazzi, questa è l'amministrazione 5 Stelle, ecco qui stanno facendo i lavori, ecco qua, abbiamo una testimonianza, questa è una testimonianza, qui stanno facendo i lavori ragazzi, tutto meraviglia, questa era una strada che era impraticabile fino a poco tempo fa, grande lavoro ragazzi, grande lavoro, auguri e continuate così, alla faccia di chi dice che non stanno facendo niente, ok? Buongiorno a tutti